Ognuno ha la sua strada. Se non capiamo questo, noi rischiamo di applicare il mito di Procuste alla vita cristiana. Procuste era quel tizio greco che, generosissimo, ospitava chiunque passasse davanti alla sua villa. Noi diciamo splendido, in un'epoca in cui i pellegrini venivano rapiti e ridotti in schiavitù. Lui invece li prendeva, lavava, vestiva, banchetto, nanna e il giorno dopo potevano ripartire. Ma se ci riuscivano? Perché quando li portava a dormire lui aveva una sega in mano e aveva delle corde. Perché se il letto era più grande dell'ospite, prendeva l'ospite e lo allungava. Perché doveva essere grande tanto quanto il letto. E se l'ospite esorbitava dal letto, questo è il letto di Procuste. E' il letto che è importante. Non chi ci dorme sopra. Quindi o st, o zac. Nella vita cristiana, nella testimonianza cristiana, noi arrischiamo di fare questo. Mentre invece ognuno ha il suo cammino. E perciò bisogna rispettare il cammino della persona. Ma d'ora nato quello è un cammino pieno di peccato, sbagliato. Non si può permettere che la persona viva così. Tu ti dai una calmata e pensi al buon ladrone. Se lui non avesse fatto la vita che aveva fatto in precedenza, totalmente sbagliata, totalmente sbagliata, lui non avrebbe incontrato Gesù Cristo e non avremmo il primo santo della Chiesa. Sì o sì? Ecco perché bisogna rispettare la persona anche quando sbaglia. Tu lo avvisi e lì ti fermi. Tu lo avvisi. Perché Gesù dice se qualcuno sbaglia, tra te e lui solo. Noi invece prima spopoliamo la persona con tutti. e poi se ci capita a tiro glielo diciamo personalmente. L'angelo dice esattamente se uno sbaglia, prima personalmente, poi con alcuni amici, poi lo dici alla comunità. Noi invece che siamo occidentali sbrigativi, subito alla comunità, senza tante storie, saltiamo tutti i passaggi male. Cosa facevano? Undici chilometri. Prendete un compasso, la carta geografica, fate un cerchio di undici chilometri e trovate una città, una cittadina soltanto che si chiama El Kubeibe. Oggi andate ad El Kubeibe, oggi non andate più, neanche se avete i piedi d'oro, perché come arriva il pullman, siete oggetti di una sassaiola imperdonabile. L'ultima volta che io sono stato El Kubeibe mi è costato 700.000 lire. Eravamo un gruppo di 50 persone quindi non abbiamo fatto tanto sacrificio a tirare fuori 700.000 lire. Per mezz'ora. Per entrare in questo villaggio dove c'è una chiesa tenuta dai francescani che custodisce ancora un tratto della strada. Il monastero dei francescani è protetto dalle mura, come fosse un castello. Voi entrate, trovate questo prato, la chiesa e c'è accanto alla chiesa questo tratto di strada romana che da Gerusalemme scendeva giù verso il mare. Undici chilometri El Kubeibe è fra le cinque cittadine che vogliono essere Emmaus quella che risponde sotto il profilo archeologico meglio a questa caratteristica. C'è la strada, i chilometri sono undici, non c'è un altro sito che abbia questa particolarità. Amen. Ci interessa relativamente cosa facevano la predica. L'omelia vuol dire conversare familiarmente. Ora, quando tu conversi familiarmente non dice voi dovete, voi dovete, no. Conversare familiarmente vuol dire spiegare, dare motivazione e poi ognuno è maturo, prende le decisioni che crede. Dunque, facevano l'omelia tra di loro di tutto quello che era accaduto. Pettegolezzo, tanto per essere schietti. la cosa interessante è che si aggiunge un terzo, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Allora si aprirono i loro occhi. Allora tutto quanto il brano, anche se poi non viene più fuori la parola occhio, è giocato su questa apertura, dagli occhi chiusi, impediti a riconoscerlo, fino a si aprirono i loro occhi. Qual è il cammino che questi fanno? Noi diciamo, è chiaro, quello da Gerusalemme a Emmaus, materialmente questo è il cammino, ma quando voi leggete un autore orientale, non dovete leggerlo come il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera è scritto da occidentali per occidentali, questo è un orientale, non dimenticatelo. Il cammino che loro fanno è il cammino dell'apertura degli occhi. E quindi tutto ciò che viene narrato ha come sbocco questo. Quindi il passaggio da un non vedere a un vedere. Provate ad analizzare come avviene questo passaggio. Vi dirò una cattiveria. vediamo se ve l'ho messa perché sì. In Marco, capitolo 16, versetto 12, è l'ultimo capitolo di Marco, è il capitolo in cui si parla della risurrezione dei fatti successivi. Marco, in una battuta fulminante, ad essere onesti, non è Marco ma è Aristione perché fa parte del brano cosiddetto ispirato, non autentico, ma canonico. Chi ci ha capito qualcosa me lo dica. Dopo questo apparve sotto altro aspetto a due di loro mentre erano in cammino verso la campagna. Marco accenna a Emmaus in questo modo. Però la cosa interessante è En etera morfè, tradotto molto bene sotto altro aspetto. Morfè vuol dire forma. La morfologia di un terreno è la forma del terreno. Quindi Gesù non aveva la stessa fisionomia del Gesù storico. È per questo che i nostri amici non lo conoscono. Da che cosa lo conoscono? Tutta la narrazione dice che lo conoscono dalle parole e dai gesti. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista ed essi dissero l'un l'altro. Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture? Questo è un dato molto interessante. Cristo risorto tu non lo conosci perché lo vedi. Maria Maddalena l'ha visto? Era innamoratissima di lui. Provene sia che gli salta addosso e Gesù gli dice va bene, abbiamo altro da fare. E' gentilissimo. Lui le permette di fare il gesto, ma non permette che questo gesto continui. Tradotto in italiano non mi trattenere. Vabbè, ho già pensato che quando sarò vecchio avrò tanto lavoro da fare. Come se adesso non fossi già vecchio, ma sono ancora al lavoro, non mi ha mandato in pensione purtroppo. Perché noi preti andiamo in pensione? Quindi non abbiamo nessuna paura delle leggi dello Stato che rimandano continuamente l'età pensionabile. Perché prima di arrivare a 75 anni, ragazzi, si arriva, si arriva, ma prima che lo Stato dica si va in pensione a 75 anni, penso che dovremmo aspettare almeno altre due generazioni. Stato. Dunque, il Cristo risorto lo si conosce attraverso la parola e attraverso il gesto. Che tipo di gesto? Io qui ho cercato di essere sintetico come si fa con i bambini, così ho fatto anch'io. Ieri notte quando preparavo la scheda mi sono divertito. Queste schede sono nate, queste tre foglie sono nate stanotte, dalle undici e mezza alle due. Alla moltiplicazione dei pani, Luca, come descrive il gesto di Gesù? Primo, perché mi rifaccio alla moltiplicazione dei pani? Perché la moltiplicazione dei pani è un miracolo che intende illustrare l'eucarestia. Questo lo conosciamo meglio da Giovanni, capitolo 6. Gesù fa il miracolo della moltiplicazione dei pani e subito dopo in sinagoga discute sull'eucarestia. Prese i cinque pani, vedete in rosso. Nell'ultima cena, anche lì, prese il pane e a Emmaus prese il pane. Notate? Primo gesto è uguale dappertutto. Poi c'è, recitò su di essi la benedizione. Rese grazie. Voi dite? È diverso. Io vi dico, è la stessa cosa. Perché? Perché questo rese grazie è greco. In ebraico non esiste un verbo che indichi rendere grazie. Non c'è il verbo ringraziare. Non c'è la parola grazie. E allora per ringraziare cosa facevano? Per esprimere la riconoscenza di un sentimento umano? Bene dicevano. Cioè, narravano solennemente. Narrare solennemente significa benedire, che vuol dire manifestare riconoscenza. Ho bisogno di un caffè. Tu mi paghi un caffè, io dico ai presenti, al bar, guardate, avevo bisogno di un caffè e lui me l'ha offerto. Questo narrare in Oriente si dice lodare, perché siamo in un ambiente profano, il bar. Ma se questa narrazione avviene in un luogo sacro, si dice benedire. Se avviene durante una celebrazione, si dice glorificare. È sempre lo stesso gesto fatto in ambito profano, in ambito sacro, in ambito celebrativo. Sono i tre passaggi, ma è sempre esprimere riconoscenza. Quindi recitare su di essi la benedizione, questa è la dicitura semitica. Così parlavano gli ebrei. Rendere grazie, così parlavano i greci. E Luca scrive per dei greci convertiti al cristianesimo. E quindi, quando si tratta di narrare l'avvenimento della moltiplicazione dei pani, lui prende la tradizione aramaica e la riporta. Ma quando si tratta di parlare dell'Eucarestia, Luca non fa altro che descrivere la messa che celebrava. Quando lui riporta le parole dell'ultima cena, dice, scrive le parole che lui diceva quando celebrava con i suoi cristiani. E i suoi cristiani sono di lingua greca. E quindi lui adoperava il verbo eucaristeo, non il verbo eulogheo, perché quello è traduzione dall'aramaico. Questo è greco puro. Vabbè. Recitò la benedizione Emma, o sì che vuol dire che Luca eredita dalla tradizione della chiesa nascente il racconto in aramaico. E allora ha la parola benedizione. Questo invece è lui che lo compone, semplicemente riportando le parole della celebrazione della messa, che lui celebrava, al quale lui assisteva, chi lo sa. Poi c'è il gesto dello spezzare, ultima cena, Emmaus. Dava i pani ai discepoli, moltiplicazione dei pani, diede loro ultima cena, lo diede loro Emmaus. Cosa notate? I biblisti hanno ragione? Io come biblista ho dei dubbi. Ho dei dubbi che questa sia un'eucaristia, ma ho anche dei dubbi che non lo sia. E allora quando uno è in dubbio, cosa fa? Resta aperto, non si oppone. Se la chiesa dice no, qui abbiamo una specie di anticipazione dell'eucaristia. Qui abbiamo l'eucaristia e qui abbiamo la ripetizione dell'ultima cena che Gesù compie con questi due amici. Mi va bene questo tipo di lettura, perché se mi si dice che questa è la ripetizione, Emmaus, è la ripetizione dell'ultima cena, mi va bene. Parlare di eucaristia è un po' azzardato. Ma ripetizione dell'ultima cena? Ok. Dunque, la conclusione qual è? Cristo risorto lo si conosce sempre in maniera mediata dalla parola e dal segno. Non in maniera immediata, perché nessuno l'ha mai riconosciuto in maniera immediata. Emmaus, Gesù viene riconosciuto in maniera mediata dalla parola e dal segno. Maria Maddalena lo riconosce in maniera mediata dalla parola, la chiama per nome e dal segno. I discepoli in Riva al Lago lo conoscono dalla parola e dal segno, il miracolo della pesca miracolosa. Il resto lo faremo in paradiso, sono le 12 e 32 minuti. Basta. Basta, basta, basta. C'era ancora un po' di cose, ma pazienza. Ricupereremo alcune cose la prossima volta, siccome abbiamo due appuntamenti sul Vangelo di Giovanni, perché due sono i capitoli che parlano della risurrezione, quella volta ricupereremo qualche cosa di Luca che oggi abbiamo tralasciato. Grazie e buona domenica.